l'autaro c'è l'autaro c'è avete rovinato il calcio italiano perché questo è un tuffo da tuffatore allora se dobbiamo ancora seguire la farsa italiana della serie a ditemelo prima che ve l'ho detto già chiudiamo la serie a nessuno sta mettendo in dubbio che l'inter è più in forma delle altre che l'inter è una rosa più completa alle altre ma amici bianconeri e nemici bianconeri siamo stufi siamo stufi del tuffatore siamo stufi dei tuffatori dell'inter questa qua è la nuova divisa dell'inter come si fa a fischiare un rigore del genere all'inter ma stiamo scherzando ragazzi oggi mi sono ridicolizzato per far vedere al mondo del calcio che siamo stufi siamo stufi di questo calcio questo è l'autaro martinez questi sono gli interisti questo oggi è il calcio italiano non è figici federazione italiana gioco calcio signori miei è cambiata oggi si chiama t tuffatori italiana i ignoranti signori miei perché questa qua non è possibile ancora continuare con questo calcio falso siamo stufi io della juve ma di non essere stufi le altre squadre perché un rigore così non viene fischiato neanche quando si gioca scapoli contro ammogliati amici bianconeri è inutile proseguire fare chissà quali romanzi opera della partita c'è poco da parlare qui c'è soltanto da prendere posizione andare nel palazzo figici e a dire chiudere questa farsa dateci la stella di cartone dategli questo scudetto ma la farsa deve chiudersi che d'accordo con me condivida questo video su tutti i sociali ma è importante e sostenere non solo un bobo juventino ma uno che vuole la pulizia del calcio iscrivetevi al mio canale amici bianconeri e nonni perché questa qua è una farsa che deve chiudersi fino alla fine forza juventus e fino alla fine di questa farsa io mi ne vai ho stamiglia a tutti i picciotti mi vado a tuffare